Salve a tutti amici di Niroma TV, ci troviamo nella città universitaria per chiedere agli studenti cosa pensano dell'opportunità di studiare all'estero mediante una borsa Erasmus. E per quelli che l'hanno vinta, quanto è complicato partire? Le università facilitano davvero questi scambi? Tu sei interessato all'esperienza Erasmus? Ma diciamo che in passato ho fatto domanda, purtroppo non sono stato preso, sarei stato molto interessato però sì. Penso che sia una buona opportunità per chi studia comunque andare in un paese straniero e fare un'esperienza in un paese diverso dal nostro. Guarda, sinceramente mi piacerebbe farla però ho deciso di non farla più perché purtroppo ho parlato con gente che ha fatto l'Erasmus e dalle esperienze ho capito che comunque si fa un anno all'estero e fai molte esperienze soprattutto sulla lingua, sulle altre culture, però perdi molto tempo in fatto di esami. No, veramente non particolarmente. Come mai? Perché essendo matricola ancora ho da studiare parecchio qua, purtroppo ce ne saranno almeno molti altri anni di studio, se non lo farò nell'immediato non lo farò più. Sì, l'ho fatta proprio quest'anno. E come è andata? Al momento non sono inclusa nella lista ufficiale però rimangono ancora le borse residue, qualcuno potrebbe rinunciare, rinunciate per favore rinunciate e quindi il lunedì scoprirò se parto o no. L'ho preso in considerazione però purtroppo non l'ho mai fatto perché se no mi sarei attardato ulteriormente con gli studi visto che già un po' sto in ritardo e l'Erasmus sia una cosa bella però da un punto di vista un po' se non lo fai con serietà comunque ritarda gli studi. Sì, sono stato interessato al progetto Erasmus ma per causa di media con i voti non sono mai riuscito a parteciparvi. Se hai preso in considerazione la possibilità di partire mediante un Erasmus e se sì dove sei stato e se hai riscontrato comunque difficoltà. Allora sono stato a Madrid, non ho riscontrato parecchie difficoltà quando ero in Spagna, quando sono tornato in Italia e per partire ne ho riscontrate parecchie perché qua come voi mi insegnate la burocrazia universitaria purtroppo è pessima. Risbona Per quanto tempo? Nove mesi. Direi che è stato più ostico che stare lì poi effettivamente, non si capisce nulla, non ci sono guide, non c'è gente che ti dica la stessa cosa, c'è sempre qualcuno che ti dice una cosa e qualcun altro l'altra. Che tipo di difficoltà hai trovato prima di partire e dopo? Nel reperire le corrispondenze con gli esami perché molti esami non corrispondono, nei crediti sono diversi, non è tutto uniforme quindi prima lo devi fare da sola perché nessuno ha idea di come si faccia. Grazie. 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 Grazie.